3, 2, 1, GO! 1 Buongiorno ragazzi e ragazze Oggi siamo ritornati qui con un nuovo video Questo video è stato il challenge Challenge delle piste Quindi 3, 2, 1, GO! Le regole sono che noi dobbiamo bere un sorso di una cosa E dobbiamo indovinare, però bendate E quando è finito dobbiamo dire quello che pensiamo che sia Nostro padre non ci farà nessuna esclamazione né niente Ci dirà solo alla fine che l'abbiamo detto tutte e due Se abbiamo sbagliato o no Chi ha vinto? 3, 2, 1, GO! Iniziamo! Polaro, popopo! Pompopo! Pompopo! Baila come il papo Baila come il papo Ecco il hebbiciro è qua Le regole che va capico benissimo devi dire che cosa stai bevendo potete... no, non la pegite la bevendo melograno! brava! uno giura zero marghe melograno? te melograno, dai dammi uno uno giura... è vero io non ho capito cos'era babbo però non devi dire che io l'ho detto babbo devi aspettare che pure io vi dico no, io lo faccio prima, perché è più veloce ah, vabbè non capito io l'avevo capito al più veloce allora, giulia, però tu guardi no, te lo giuro no, no, non guardi numero due abbassate gli occhi fai vedere, guardate l'altro abbassa gli occhi giù giulia giulia, ti guarda mettete le mani abbia gli occhi anche, dai per sicurezza prendete il bicchiere e bevete subito, senza guardare eh una toglione no, l'ho detto prima io no, io no, prima io Giulia, l'ho detto prima io no, non lo so devo chiamare mamma non c'è no, che se fai dai 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 no 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 tu sei giulia ma allora appena che uno parla l'altra si deve stare zitta no perchè no bella 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 come il papo spook 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 via bravissima 2 a 0 dammi con calma e marghe piano piano vedi che vincerai con calma 2 a 0 andiamo avanti passate la testa giura mette le manate agli occhi 3 a 0 3 a 0 per andare venuti a prendere tutto quanto e poi andrò così affogata questa pentola sarà bene andiamo avanti dai 3 a 0 per giù guarda me li sto mangiando io dritte dritte e pietra e ma lei guarda giura abbassa la testa abbassa la testa proprio giura abbassa 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 la testa proprio con la testa sull'altà ok pronti via fanta fanta come? arancia rossa ok 3 a 1 no 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 io so 2 no io so 2 perchè perchè mi ha detto per meglio limonata so 4 pure tu hai detto limonata coca cola pure quella è la pari 4-2 scusa 4-2 hai ragione perchè quella è la pari la coca cola abbiamo detto coca cola poichè melograno è un sicuro no aspetta aspetta ma c'è un po' con sta panca mhm 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 ahhh dammi mhm una pezza mhm 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 una pezzio mhm tino mhm marghe 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 punto a marghe dai a favore un po d'acqua no fa schifo dai mamma è acqua vieni a bere vieni vieni a bere è arrivato te verde ma questo è pari questo è pari te verde è pari allora questa sfida è finita anche la maggior parte ho vinto io 6-4 questa sfida 6-4 però c'è c'è da dire che un punto è un po' discusso allora come dato le regole ha vinto giulia winner is giulia però visto dai non lo vuoi smettere no visto che il punto è un po' incerto facciamo decidere le magichini le magichine ragazze se scrivete hashtag marghe si ha vinto no hashtag giulia si ha vinto giulia si è finita in parità quindi ragazzi no non dite che abbiamo imbrogliato perché praticamente non abbiamo imbrogliato mi chiede io ho vinto la giustanza è un pozzicchio capis basta capis 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 iscrivetevi a instagram marghe giulia kawaii retinoma software su facebook marghe giulia kawaii real su youtube marghe giulia kawaii sul secondo canale magic tv su musica marghe giulia real ciò 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 ciao ciao